Ecco le fasi iniziali della gara, subito aveva provato a scappare davanti a tutti, magari provando a fare luoto Kasper Zucurek, ma poi si era trovato subito degli guanti a dirgli di no, a mettersi davanti nelle battute iniziali della gara. Questo non gli ha precluso di stare nelle prime due posizioni, ma evidentemente ha perso. Qui l'attacco che sembrava con il contatto anche un po' quello decisivo di Zucurek che era andato a riprendersi il vantaggio iniziale. Qui il ritorno di Massey Sisco, voglioso dopo la partenza, che non era stato ottimale ma è riuscito a risalire e soprattutto una volta ha superato Martinelli. Martinello ha colmare il gap nei confronti dei primi due ed eccolo qui il difference maker, il momento top della gara, ovvero il sorpasso di degli guanti che forse saggiamente non aspetta che arrivi Sisco per provarci, ma entra e prende la vetta. Poi il tentativo del russo Brisan in chiusura, ma non serve al traguardo degli guanti davanti a Zucurek e a Massey Sisco per il podio che cambia il volto di questa classifica e soprattutto ci dà anche l'impressione e forse un po' la promessa che sarà una gara 2 davvero interessante. Sì, come abbiamo detto anche per la Union Rock, ci attendiamo grandi cose poi per gara 2. La variabile Gaiano in prima fila con gomme nuove arricchisce ulteriormente di interesse poi la seconda gara, quindi avremo piloti che combatteranno per il titolo, che partono dalla quarta fila in avanti e davanti a tutti ci sarà un pilota velocissimo come Gaiano che avrà la possibilità di sfruttare le gomme nuove. Intanto vediamo il podio con il successo ovviamente di degli guanti certificato, ormai nessuno gli toglierà la coppa, le coppe che sono consegnate in questo momento e che faranno il paio con gara 2 al termine della giornata. Una grande gara di degli guanti che stavolta la spunta su Kasper Zucurek alla sua destra e su Massey Sisco, che si accontenta tra virgolette della terza posizione, ma sappiamo che sarà bel caldo e ben pronto a fare meglio in gara 2. Il podio dunque questo degli guanti vince davanti a Zucurek e a Sisco, ci fermiamo ancora un attimo al termine della Signor Rock e torniamo tra pochissimo perché la mattina è ancora lunga e ci sarà gara 1 per la 60 Mini.